Era l'ultimo pallone della partita Poi il gioco era di Asensio, parole che arrivano da Bordocampo le sentite, venuti da aggiungere altri commenti C'è Bisoli che probabilmente ha visto sfumare al 95esimo quella che sarebbe stata una vittoria parecchio pesante Finisce il match della San Vito Barulla tra Cosenza e Lecce 2 a 2, occhio, occhio le panchine, occhio Occhio perché Bisoli va di corsa verso la panchina del Lecce e spuzzo Bisoli Credo che la vita fosse con il team manager del Lecce Claudio Vino, adesso tutto è dividerli